vediamo un po' un video in diretta la mattina del sabato di luglio da milano va bene può sembrare una follia luglio a milano addirittura la fine di luglio a milano è per pochi temerari però cosa volete che vi dica stamattina invece di venire in macchina ho deciso di venire in moto milano era tranquillissima era una meraviglia non fa neanche caldo rispetto allo standard per cui forse per quello la apprezzo di più in via vannucci c'è l'aria condizionata si sta tutto sommato molto bene il silenzio permette ascolti particolarmente piacevoli difatti ho aperto la mattinata con qualcosa di tranquillo e bucolico come jimmy hendrix dal vivo se per caso qualche temerario ancora non è in montagna i laghi in campagna io sono qui in via vannucci oggi pomeriggio dalle 15 e 30 sono già qui adesso però se volete venire con un po più di tranquillità dalle 15 e 30 va benissimo e vi aspetto magari qualcuno vuole portarsi le sue cuffie e ascoltare in anteprima il nuovo omega lupi che nel frattempo ho rodato amorevolmente per voi e vi assicuro che sua nicchia quindi se c'è qualche appassionato cuffio maniaco cuffio filo cuffio qualcosa potrebbe essere l'occasione per provare la chicca in anteprima perché è proprio il primo il primo il primo che in funzione poi magari per agosto ci scapperà anche un'offerta e su questi omega lupi non si mai però vedo prima prevedo di farvelo ascoltare qui e di prepararvi un video di presentazione con calma la prossima settimana perché questa settimana è stato un macello e se qualcuno vuole anticipare tutto questo qui abbiamo il lupetto vediamo un po eccolo qua vedete no questo è il miracetti fratellone il lupetto eccolo qui con tutte le stelline sulle valvole che bello ok io un paio di cuffie ce l'ho qui sono delle banalissime buyer dynamic dt 990 professionali poi c'è qualche fostex qualche cosa se qualcuno invece ha delle cuffie pesanti roba dura roba da massacro da amplificatore è il benvenuto se le porti e le ascoltiamo non si può dire insieme perché dovrei mettervi un orecchio attaccato però le ascoltiamo a turno è più importante che le ascoltiate voi grazie buona giornata a prestissimo ci vediamo qui via vannucci a milano vedete via vannucci fuori ciao carissimi buona giornata